La luce della candela rappresenta l'unione della coppia, due individui che diventano uno attraverso il matrimonio. Nel giorno del vostro matrimonio lasciate che una candela bruci è un simbolo che vi illumina e accompagna. Quando saranno passati alcuni anni vi ricorderà quello che vi siete promessi in questo giorno. La candela del giorno delle vostre nozze vi sussurra all'orecchio. L'ho visto, la mia fiamma era presente quando vi siete presi per mano e vi siete regalati i vostri cuori. Sono qualcosa in più di una semplice candela, sono un testimone silenzioso della casa del vostro amore e continuerò a vivere con voi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!